così dunque leggiamo in Giovanni capitolo 6 dal verso 26 Gesù rispose loro in verità in verità vi dico che voi mi cercate non perché avete visto dei segni miracolosi ma perché avete mangiato dei pani e siete stati saziati adoperatevi non per il cibo che perisce ma per il cibo che dura in vita eterna e che il figlio dell'uomo vi darà poiché su di lui il padre cioè Dio ha posto il proprio sigillo essi dunque gli dissero che dobbiamo fare per compiere le opere di Dio Gesù rispose loro questa è l'opera di Dio che crediate in colui che egli ha mandato allora essi gli dissero quale segno miracoloso fai dunque affinché lo vediamo e ti crediamo che operi i nostri padri mangiarono la manna nel deserto come scritto egli diede loro da mangiare del pane venuto dal cielo Gesù disse loro in verità in verità vi dico che non Mosè vi ha dato il pane che viene dal cielo ma il padre mio vi dai il vero pane che viene dal cielo poiché il pane di Dio è quello che scende dal cielo e da vita al mondo e si quindi gli disse lo Signore dacci sempre di questo pane Gesù disse loro io sono il pane della vita chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me non avrà mai più sete vedete anche qui come da principio abbiamo letto in Matteo al capitolo 6 c'è una contrapposizione tra la vita spirituale e il pieno godimento della vita spirituale in una comunione reale con il Signore perché si parla proprio di comunione qui del venire al Signore e del essere accolti da Dio e gli affanni e le ansietà della vita qui viene descritto in maniera molto chiara che Gesù conoscendo i cuori di coloro che lo seguivano gli dice voi siete qui avete attraversato il mare e mi state cercando non perché siete rapiti dall'entusiasmo per perché avete visto la manifestazione di Dio in mezzo a voi i segni miracolosi ma perché avete mangiato perché il vostro pensiero la vostra preoccupazione va solo verso il pane verso quelle che sono i vostri bisogni strettamente legati alla quotidianità e al bisogno materiale e in dicendo questo Gesù sta ponendo enfasi sul fatto che la vita e ascoltatemi bene il modo in cui mi esprimerò non sta nel pane ma sta in Dio in quelli Dio che provvede anche il pane certo secondo quello che egli ha stabilito cioè secondo il lavoro e l'impegno che ogni uomo deve disporre nella propria vita per comprendere bene la profondità che c'è in questo insegnamento noi però abbiamo bisogno di fermarci prima di andare a fondo a questa analisi all'analisi di questo testo e considerare chi è il nostro Dio e come agisce nel creato e soprattutto rispetto agli uomini e in particolare a coloro che ha redento. Dio non solo è il creatore Dio ha creato ogni cosa compresi te e me ma non si è limitato a questo ovvero non si limita a questo. Quello che noi dobbiamo far nostro apprendere e non dimenticare mai neppure per un istante nel corso di ogni nostro giorno è che Dio governa il mondo e lo sostiene permettetemi di spendere qualche parola su questo lo sto facendo in diverse predicazioni perché ritengo sia importante comprenderlo. Il governo del mondo da parte di Dio e dell'intero universo nei suoi aspetti più grandi e generali ma anche nella vita specifica di ognuno di noi è importante comprenderlo perché perché così sappiamo che nella nostra vita non esiste il caso ma Dio governa e sostiene ogni cosa se siamo in vita siamo in vita perché Dio ci sostiene in vita ogni giorno ogni istante è un dono che si rinnova da parte di Dio se egli togliesse il suo intervento nella nostra vita noi cesseremmo di esistere è lui che ci tiene in vita ma è anche lui che non solo conosce ma dirige ogni cosa che ci accade sia quelle che noi definiamo buone sia quelle che noi definiamo cattive che in Dio come noi sappiamo per la sua saggezza cooperano sempre per il bene nostro. Egli dunque nella sua onnipotente saggezza dirige e controlla ogni cosa. A volte noi pensiamo erroneamente che quando ci succede qualcosa che ci turba allora dobbiamo richiamare l'attenzione di Dio e portarlo in questa situazione che c'è capitata e che quindi non non vede l'intervento di Dio ma le cose non sono così. Dio sa, Dio conosce, Dio vede e fa cooperare ogni cosa al bene. Quello che noi dovremmo dire è Signore portando certo questo in preghiera con insistenza e fede. Signore fammi comprendere, Signore manifesta la Tua mano, Signore opera in me prima che nella circostanza finché io comprenda e dirigi tu ogni cosa finché io possa trovare beneficio e tu lode e gloria da ogni circostanza. Perché è importante considerare questo? Perché allora noi comprendiamo che Dio non solo è il creatore ma è il governatore, è colui che sostiene il mondo intero ed è colui che provvede. Egli provvede per tutto nell'universo anche per te. Se Dio non provvedesse per te tutti i tuoi affanni non servirebbero a nulla. Ricordate quello che disse nella parola del Signore quando il popolo si era allontanato da lui. Voi faticate, faticate ma non riuscite a raccogliere. Se Dio non edifica in vano si affaticano i costruttori. È la provvidenza di Dio che provvede ogni cosa. E il centro della vita, l'aspetto più importante della nostra esistenza non è né il cibo né il lavoro né la famiglia. È Dio che non è solo l'aspetto più importante ma che è la nostra vita. È questo che dovrebbe essere il nostro pensiero. Che cosa vuol dire vivere? Perché sono stato creato? Non per mangiare, non per riuscire in qualche modo a sbarcare il lunario perché la provvidenza di Dio provvede per i suoi attraverso il loro lavoro e il loro impegno e la loro obbedienza alla volontà di Dio. Ma io sono stato creato per conoscere Dio, per godere della sua presenza, per assaporare il suo amore. E tutto ciò che mi separa da questo va con l'aiuto di Dio, vinto, tolto, eliminato. E molto spesso ciò che ci separa da Dio sono le ansietà, quelle stesse ansietà che non hanno senso per i figli di Dio perché Egli ha promesso di provvedere per loro. E allora veniamo al testo e a qualche esempio. Gesù compie il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci, poi si allontana e una folla lo segue, lo cerca, lo segue, giunge a lui e Gesù vede questa folla che lo cerca, che gli si stringe intorno e non è contento. Perché? Perché essi cercano il pane, quello fatto di farina e non si rendono conto che la vita è dinanzi a loro, non in un po' di farina impastata e lievitata, ma nell'incarnazione di Dio che è venuto in mezzo a loro, per mostrarsi a loro come la vita, io sono la vita. Vogliamo ripeterlo insieme? Io sono la, non il pane, non il lavoro, non la famiglia, io sono la vita dice Dio. E quindi Gesù qui sta dicendo è di me che dovete nutrirvi se volete trovare pieno godimento e appagamento della vita. È me che dovete cercare perché io sono la vita, tutto il resto è un contorno che io provvederò per voi perché io sono Dio, io sono il governatore dell'universo, io sono colui che sostiene, io sono colui che provvede. Se io non provvedo niente sussiste. O se questa frase rimanesse nella nostra mente, se Dio non provvede niente sussiste. Come sarebbe diversa la nostra vita? Come sarebbe diverso l'approccio al nostro lavoro? Come sarebbe diverso l'approccio a quelle che sono le nostre ansietà e preoccupazioni di ogni giorno? Dio provvede. Dandomi intelligenza, sì, dandomi energia, sì, dandomi capacità nel lavoro, sì, dandomi impegno, sì, ma è Lui che provvede. Dio ha stabilito che le cose avvengano così, ma è sempre Lui che provvede. Ora, dunque, che cosa vuole Dio? Vuole che noi siamo preoccupati e in ansia di una sola cosa, di rendere perfetto il nostro rapporto con Lui. Ora, una delle cose che non si comprende è che il credente, sebbene sia in Cristo, vive come se fosse ancora sotto la legge. Io faccio determinate cose, così Dio ne fa altre. Io devo studiarmi di essere in un determinato modo, così troverò. Ora, io vorrei che noi comprendessimo una realtà, che è il Signore che ci ha cercato, è vero o no? Lo possiamo dire con piena certezza? È Lui che ci ha cercato e ci ha rivolto il suo invito d'amore quando eravamo dei peccatori senza speranza e senza alcuna virtù nel cuore, è vero o no? Ora, se Lui è morto per noi quando eravamo lontani, se Lui ci ha cercato, se Lui ci ha adottati quando eravamo lontani. Noi in questa realtà dobbiamo riposare, cioè che se ci ha accettati quando eravamo peccatori, morti, bestemmiatori e ci ha adottati a sé, allora della sua accettazione noi dobbiamo essere più che sicuri. Lo dirà più avanti al verso 37. Colui che viene a me non lo caccerò fuori, perché sono io che lo cerco, sono io che vado a Lui. Se sono io ad attrarlo a me, nel momento in cui Lui viene a me, è possibile che io lo cacci? È possibile? Noi dobbiamo essere certi dell'accettazione di Cristo, perché è Lui che ha scelto di morire per noi, è Lui che ci ha cercato, è Lui che ci ha redento e se quando eravamo nemici Egli è morto per noi e ci ha adottato, ora che siamo figli, come possiamo pensare che Egli non avrà cura di noi? Ma ora? Ora noi siamo in Cristo, lo sapete questo? Noi siamo in Cristo, la nostra vita è custodita in Dio con Cristo. Noi siamo in Dio, siamo in Cristo e quello che succede alla tua vita, qualunque aspetto, succede in Dio, cioè Dio conosce, sa, ha il controllo. Non c'è niente che sfugga al suo controllo. Tu non devi temere, tu non devi stare in ansia, perché Cristo ti avvolge d'ogni lato, Egli è la tua avanguardia, la tua retroguardia, Egli sta al tuo fianco, Egli veglia su di te, Egli conosce ogni cosa e tutto quello che ti succede, Egli lo sa, lo controlla, lo dirige, lo guida. E perché? Perché ogni cosa possa cooperare al fatto che tu possa conoscerlo di più e goderne di più la sua bellezza e vicinanza. Vedete, ci sono molti modi in cui noi possiamo spendere la nostra vita. Possiamo spendere la nostra vita affaticandoci lontano dalla comunione con Dio, pur rimanendo dei credenti, oppure vivere come alcuni esempi della Bibbia, come Enoch, il quale era un uomo come me e te, aveva famiglia, aveva figli, aveva un impegno lavorativo, aveva una vita sociale, ma tutto quello che faceva lo faceva in in Dio. Cioè aveva imparato a camminare affidandosi e coltivando principalmente la sua comunione con Dio e riposava nella certezza che Dio è colui che provvede. Ora guardiamo un esempio e poi concludiamo, un esempio meraviglioso che è quello di Abramo, che è il padre di coloro che hanno la fede. Noi abbiamo la fede, è vero? Noi siamo chiamati dalla parola di Dio figli di Abramo. Ora pensate a quest'uomo che viveva in una regione che è proprio l'emblema nella parola di Dio del mondo, delle tenebre, del peccato, della lontananza da Dio. E quest'uomo è immerso in una idolatria e nella completa ignoranza riguardo a Dio, a un certo punto sente la voce di Dio che lo chiama ad abbandonare tutto, ad uscire dalla sua condizione e prendere a camminare con lui ovunque egli lo condurrà. Comprendete bene che da quel momento la sua vita non è legata a una legge o a delle norme o a delle tradizioni, ma è legata solo e unicamente alla comunione con il suo Dio che dirige i suoi passi. Lui non sapeva dove doveva andare e l'unico modo per conoscere il passo successivo era quello di stringersi in comunione con Dio. Abramo nel corso della sua vita commise degli errori, ricordate quando si ritrovò in Egitto cominciò a mentire per paura della bellezza di Sara e successe quello che successe, ma il Dio lo lo preservò, ma come ha sbagliato e Dio ha avuto cura lo stesso di lui? Certo perché il Signore fa così con noi, perché se a ogni passo, a ogni errore che commettiamo ci abbandonasse, noi che saremo? Egli ha cura di noi, Egli è morto per rimediare ai nostri errori, per cancellare le nostre colpe, per vincere il nostro peccato. Quindi è Lui che ha cura di noi. Non mi sembra che il peso sia caduto su di noi, ma piuttosto è caduto su di Lui. E Abramo, mentre cammina, vede che Dio è fedele e provvede in modo straordinario a Lui. Mentre Lui cammina in una direzione che non sa, certo lavora, certo si impegna, certo dirige i suoi affari, ma a un certo punto vede moltiplicare la sua ricchezza in modo che si gira intorno e deve dire tutto questo me lo ha dato il Signore Gesù, Signore Dio. Ebbene tutto questo Dio ha provveduto per me e mentre cammina coltivando la sua relazione con Dio e vivendo per Dio e godendo di Dio, lui vede che il suo lavoro prospera, la sua benedizione l'accompagna, perché Dio provvede. E quando si ritroverà poi nella preoccupazione a causa di lotte, scenderà giù a liberarlo in una guerra impossibile da vincere, con una manciata di servitori dinanzi ad un esercito sconfinato, e lui vince. Vince perché? Perché Dio è con lui. Dio provvede sempre. E la gioia di Abramo, la vita di Abramo, ora non sta nel greggi o nelle ricchezze, ma nel suo rapporto con Dio. Abramo conosce Dio, è amico di Dio. E quando gli vengono offerte delle grandi ricchezze dopo quella battaglia, ricordate che cosa dice Abramo al re che gliele offre? No, non le voglio le tue ricchezze, perché se no la gente dirà che sei stato tu ad arricchirmi, ma la mia ricchezza, colui che per me provvede, eh? Capite come è al di sopra di tutto ciò che è immateriale. Ma poi c'è una cosa, e questo c'è bisogno dello Spirito di Dio per riuscire a comprenderla. Quando Dio gli darà un figlio e dopo qualche anno gli dirà offrimelo, mentre con il figlio sta andando verso il monte su cui lo offrirà, il figlio gli fa una domanda, la legna c'è, il fuoco anche, ma dov'è il sacrificio? La risposta di Abramo è meravigliosa. In quello che è il problema più grande che Abramo affrontò nella sua vita, la prova più dura, egli disse e rispose, Dio provvederà. Capite quale perfetto riposo viveva in Abramo? Quale perfetta pace? Perché? Perché sapeva in chi aveva creduto, sapeva che Dio aveva provveduto lungo tutto il corso della sua vita. Era stata iniziativa di Dio tutto quello che era capitato nella sua vita e che lo aveva arricchito di ogni benedizione, non parlo semplicemente di quelle materiali, ma di quelle spirituali e gloriose. E attraverso di Lui godiamo ancora noi oggi di queste benedizioni, ma la cosa gloriosa sta in questo. Abramo che sale sul monte sapendo che presto sacrificherà suo figlio e dice Dio provvederà anche in questa situazione. Non so come, non so quello che accadrà, non so quello che Dio hai in mente, ma lo conosco a sufficienza per poter avere piena fiducia in Lui. Quale riposo per l'anima questa conoscenza? Quale riposo per l'anima questa attitudine? Quale pace? Abbiate fede in Dio, abbiate fede anche in me. Il vostro cuore non sia turbato. Io ho la vostra vita nelle mie mani, quelle mani che un giorno sono state forate per voi. Tutto ciò che vi accade sotto il mio controllo, io so e conosco ogni cosa. Qual è il vero senso della vita? Non affannarsi per il pane, ma affannarsi per conoscermi e poi io vi darò un lavoro, vi darò l'intelligenza, vi darò le forze, la salute, vi porterò avanti e attraverso tutto ciò che vi sembrerà buono o cattivo io farò cooperare ogni cosa per il vostro bene e vi condurrò laddove la mia mano ha stabilito per voi il traguardo. Ma la vostra preoccupazione deve essere solo una, ricordare, dice Gesù, che io sono la vita, io sono la verità, io sono l'unica via che voi dovete percorrere. È su di me che il vostro sguardo deve porsi. Di che cosa mi nutrirò oggi? Devo, come fa ogni brava donna di casa, essere certo di preparare una mensa che sazi l'anima. Chi è una mamma impegnata ha sempre una preoccupazione. Mia madre mi diceva a volte sono stremata dal fatto di dover pensare sempre al cibo che devo preparare. Mia madre era una madre di cinque figli e aveva il pensiero sempre che gli tornava lì. Aveva un lavoro, doveva governare la casa e cucinare per cinque figli e un marito ogni giorno. Ebbene, grazie a Dio il cibo non ci è mai mancato. Ma io vorrei che come ogni brava madre che provvede il cibo per la sua famiglia, noi fossimo sempre con la mente e il cuore, con il pensiero che si deve apparecchiare ogni giorno, il cibo spirituale e nutrirci di Cristo nella conoscenza e nella comunione con Lui, nel riposo perfetto che si ha in una vita spesa per conoscerlo di più. E allora l'anima nostra godrà e riconoscerà che Dio farà prosperare il nostro lavoro e che nelle difficoltà che incontreremo ci sarà una lezione meravigliosa per conoscerlo di più, che ogni cosa coopera al bene e potremo camminare con la profondissima convinzione che Dio provvede per noi e come Abramo dinanzi alle difficoltà, potremo salire sul monte incontro alla nostra difficoltà dicendo Dio provvederà come sempre ha fatto e come sempre farà perché Egli è fedele e la sua fedeltà non viene mai meno.